Buone notizie per il caratteristico pontile di Roseto degli Abruzzi chiuso dal 2021 per i lavori di messi in sicurezza. Il sindaco Mario Nugnes ha annunciato che la struttura sarà riaperta entro questa settimana. Sono stati infatti completati i lavori strutturali e l'illuminazione e ora si stanno sistemando i cartelli di sicurezza e completamento delle procedure burocratiche. Sì, l'avamo annunciato quando a fine 2022, grazie all'intervento mio, del vice sindaco e di tutta la squadra, in collaborazione con Regione Abruzzi, abbiamo recuperato 300 mila euro per mettere in sicurezza tutti e 104 i pali che nel progetto precedente della precedente amministrazione non sarebbero stati messi in efficienza e quindi collaudabili. Ovviamente questo è un lavoro che oggi si conclude, si stanno predisponendo dei cartelli per la sicurezza, un mini abbellimento dello stesso. L'illuminazione è stata installata e verrà accesa proprio nel giorno in cui verrà riaperto. Sarà una riapertura al passeggio e alla fruibilità della città, ripeto, sempre in sicurezza perché per noi è ancora un cantiere. Mentre per quanto riguarda i lavori di restyling per il completamento del pontile, l'amministrazione comunale ha chiesto nuovi fondi alla Regione Abruzzo. Diciamo che almeno circa un milione, un milione e mezzo per il restyling del pontile. Lì però stiamo per pubblicare, si stanno chiudendo le operazioni dell'assegnazione dei premi, il concorso di idee che vede anche il pontile, l'Arena 4 Palme, il mercato coperto come opere. Lì nel restyling è prevista però non solo il pontile ma anche tutta la piazza antistante, la cosiddetta seconda piazza a mare, la chiamo io perché la prima è quella centrale. Ecco, lì probabilmente l'importo sarà più alto, sarà sui 3 milioni e mezzo, ma sul pontile solamente, credo che su tra un milione e un milione e mezzo dovremmo farcela. L'assessore del Nuntis ci ha rassicurati che il bando sulla rigenerazione urbana verrà pubblicato a breve e noi siamo pronti con progetti cantierabili, pontile, Arena 4 Palme, mercato coperto e la villa comunale. Ma sul pontile avremo una grande attenzione e da subito col consigliere Pavone abbiamo chiesto e continueremo a chiedere.